Dicevamo e veniamo da un weekend in cui è successo veramente di tutto. Prima Lazio-Milan con arbitro Di Bello, Lazio che finisce in otto, Lotito che addirittura nel post partita minaccia di rivolgersi a delle istituzioni che non c'entrano con il calcio, anche se poi non si è capito benissimo dove volesse andare a parare. Poi sabato sera Torino-Fiorentina, l'arbitro è Marchetti, anche lì c'è un'espulsione a Ricci che viene contestata. Fino poi ad arrivare a lunedì sera Intergeno, arbitro Di Bello, rigore... Airoldi. Scusa, arbitro Airoldi, bravissimo. Sempre pugliese però. Rigore, come so come lo vogliamo definire. No, non c'era il rigore. Rigore inesistente. Sì, lo voglio subito dire. Ma soprattutto con un VAR che richiama Airoldi, gli dice vienilo a vedere perché non c'è, Airoldi lo rivede e lo dà comunque. Ma non gli ha fatto vedere le immagini giuste. Non gli hanno fatto vedere le immagini giuste. Il risultato che c'è è il caos totale è che in settimana ci sarà addirittura un incontro a Roma tra Rocchi, gli arbitri, Gravina presente. Cioè, Marcello, io voglio partire con te anche perché tu sai che io ti seguo sui social perché tu mi dai sempre degli spunti interessanti. Io ti ho sentito anche oggi. Ti ringrazio. Sì, sì, sì. Eri particolarmente velenoso oggi sul tema arbitrale. È un caos totale. Qua bisogna finire la stagione sperando di non avere più tutte queste polemiche perché sennò arrivare all'ultima giornata è lunga. Capito. Però le polemiche ci continuano ad essere perché non riusciamo a dare chi a fare chiarezza. Cioè, qualcosa sta succedendo all'interno di quest'aia. Cioè, non è possibile che ogni... Io adesso non se la prenderà Borrelli o a Tramacere perché ritorniamo sempre sulla loro squadra. e quindi dici, eh, ma tu ce l'hai con l'Inter. Però, scusate. Traversa dell'Ipsia intanto. Traversa dell'Ipsia al 92esimo. Questa era la palla che poteva portare alla partita. Che cosa stava facendo Dani Olmo? Ai supplementari. Mamma mia. Dani Olmo fa questo pallonetto al volo dopo aver stoppato il pallone e prende la traversa. Vai Marcello, scusami ma insomma... Marcello Di Bello non era l'Inter però Di Bello. No, no, prego, prego, prego. Vai, 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 prosegui pure. No, no, ma il mio discorso è molto semplice. Cioè, al di là che gli episodi ne abbiamo visti un po' dappertutto. Però, francamente, adesso tornando proprio sull'ultimo episodio di Inter Genoa. Cioè, ma porca miseria, ma non è possibile che tu arbitro in campo vieni richiamato dal VAR. E in genere, quando il VAR ti richiama è per farti cambiare idea. E tu, nonostante vada all'All Fear Review, tu continui a restare sulla tua idea. Di che immagine avevi bisogno? Cioè, le immagini che abbiamo visto noi di Inter Genoa. Penso le abbiano viste anche quelle di Lissone e gli abbiano proposto le stesse immagini. E là è il punto. Non gli hanno fatto vedere l'immagine da sotto dove si vede l'intervento di Prendrup. Questa è sempre la solita scusa. Ma non è possibile che queste a Lissone non hanno immagini. Ma non mi faccio prendere in giro. Non è che non ce l'hanno. Ce l'hanno, ma non hanno sbagliato. Ma non gli hanno scelto quella giusta. Tu ti farai prendere in giro. No, che prendere in giro? Ma si vede l'arbitro che cosa vede. Lo vediamo anche noi quando è al monitor cosa passa. Per arrivare alla conclusione del mio ragionamento è che è possibile che all'Inter... L'Inter è una squadra molto forte. Molto forte. L'ha dimostrato anche nello scontro diretto con la Juventus. L'ha dimostrato di essere molto forte. Però non è possibile che in questo campionato ci sia una giornata sì, una giornata no, due giornate di fine. Sempre episodi a favore dell'Inter e contro gli avversari dell'Inter. Non è normale. Non ce lo deve spiegare questo Rocchi prima o poi. Cioè qui non si tratta di piangere così. Ma Marcello ma non è vero. Ci sono episodi contro tutti. Perché tu non vuoi andare contro l'Inter. No, però è palese. E tutti quanti lo vediamo. E non riesco a capire come mai nessuno dice nulla. Cioè nel senso che è veramente una cosa no. Come nessuno dice nulla. Lo Tito ha detto facciamo causa alla FIGC. Vogliamo fare un altro sistema perché non ci sta bene. Stanno parlando tutti. Addirittura anche quando non ci sono episodi. Oggi Calvarese, l'arbitro di quel famoso Juventus-Inter che decide la partita 3-2 all'ultimo minuto. Sapete cosa ha detto per buttare ancora più il carico? Ci sono delle dinamiche politiche e questo è sbagliato perché dice che lui era nella sezione di Teramo dove tre arbitri sono stati mandati a casa. Ma c'era Nicchi dalla loro parte che era vicino al presidente della sua corrente. No, senti l'ultima frase che dice C'è stato del marcio, ritengo di essere vittima di una guerra politica. E c'è l'arbitro anonimo alle Iene. E c'è adesso Calvarese che dice In questo clima è veramente complito. Poi ci metti i giocatori che pure non è che collaborano tanto. E' finita intanto a Madrid. Uno a uno passa il Real quindi va ai quarti di finale. Ma quanti brividi per il Real Madrid stasera. Il Lipsia con onore. Con un grandissimo onore. Esce davvero a testa alta e ricordiamo la traversa di un minuto fa che poteva veramente portare tutto il supplementario. Quasi truffata. Quindi decide tutto. Il gol annullato ingiustamente messo dallo stesso cross all'Ipsia nell'andata. Un altro errore arbitrale. E infatti guarda Marco Rose l'allenatore dell'Ipsia che sta andando a insultare Massa e Marcello. Un'altra serata di polemiche per una terna italiana. Perché vedo che effettivamente... Perché anche al VAR erano tutti italiani. Quindi no, Marcello la mette sull'Inter. Michele dice non è vero. Guarda tutti il problema. Scusate, stiamo dicendo. Torino-Fiorentina, Lazio-Milan e Inter-Genoa secondo me... Però Marcello secondo me mette dentro anche altre partite dell'Inter. Ma anch'io le metto dentro. Però ci possiamo mettere tante partite a favore e contro. Se andiamo a fare l'elenco, te lo posso fare veloce per ogni squadra di vertice. Ma secondo me... Sbagliamo proprio il mirino se pensiamo... Perché se no, scusa Marcello, qual è la teoria? Che c'è qualcuno che vuole far vincere l'Inter. Mi sembra una cosa ridicola. Non lo so. Quando giocava la Juve dicevate così. Ma no, no. Quando giocava la Juve di Michele Padovano, dicevate così, che quella Juve lì era fortissima. Ma dicevate così, e ti faccio presente, che quella Juve lì aveva un episodio macro durante tutto il campionato. Ma che episodio macro? Ma adesso dobbiamo tornare al 98 ogni volta. Qual è l'episodio macro? Il 98, Giuliano Ronaldo, ecco l'episodio macro. Ma mica Giuliano Ronaldo, quello era l'apice. Empoli Juve, no? Ma c'era quell'episodio. Quest'anno, cioè, stiamo vedendo il campionato e c'è quasi sempre un episodio a favore dell'Inter e contro le altre squadre. Ma non è vero, non è vero, perché tu te li ricordi solo quelli. Tu e tutto sport, vi ricordate solo gli episodi che volete. Tutto sport ha aperto come una prima pagina, non hanno bisogno di aiuti. Sì, ma perché è diventato come un giornale di società, di club. È diventato una roba ormai veramente imbarazzante. Invece la gazzetta non è di fare. Vabbè, adesso non stiamo qua a giudicare il lavoro degli altri che non possono difendersi. Ma no, in senso, io ci mancherebbe. Se stiamo a metterla su questo piano. Eh no, ma infatti secondo me... Ma scusa, ma il titolo, se lo ricordi, il titolo veniteci a prendere dopo la vittoria che l'Inter era in Arabia. La Juve passa prima in classifica, il titolo del giornale veniteci a prendere. Sì, ma io non voglio nemmeno andare troppo indietro con la storia, perché potrei... Appunto, cioè se vediamo fuori il 98 non vediamo più. Verona, Firenze, l'andata col Genova, te ne potrei dire una marea. Ma Firenze cosa? Firenze hanno dato i rigori contro l'Inter, che ancora adesso si sta dicendo che non c'è. Io mi limito, io mi limito alle ultime due partite dell'Inter in casa. Inter-Atalanta, Inter-Genova. Con l'Atalanta, pronti via, un gol annullato. Annullato giustamente secondo tutti gli arbitri possibili e immaginari. Ma per la comunicazione dell'Inter è giustamente... Ma com'è la comunicazione dell'Inter? Mano di mano, Miglianciuk! Ma scusa, Marcello, io Inter-Genova ti dico che il rigore per l'Inter non c'era. Perché non c'era? Ma Inter-Atalanta, il gol dell'Atalanta è viziato da fallo di mano, tutti i regolamenti lo spiegano. Poi il rigore... E il rigore è clamoroso, il rigore, perché a cosa si appiglia l'Atalanta? Che il guardialini ha alzato la bandierina. E chi se ne frega? Devi sentire il fischio dell'arbitro per fermarti. A parte che non si ferma perché a te pure allarghi il bravo. Ma come chi se ne frega? Chi se ne frega? Se il guardialini alza la bandierina, tu devi giocare. Se non sei un pollo, te lo dicono, credo anche a scuola calcio da bambini. Io so solo che se ci fossero stati tutti questi episodi a favore... Ma non è vero, Marcello, ci sono stati... Allora, per forza, mi tiri fuori gli episodi, io non volevo fare l'elenco. Allora ti dico gli episodi a favore tuo, perché Gatti ha tirato due pugni in questo campionato e nessuno dei due è stato sanzionato, perché Juve... Eh, sui scusa, allora perché se c'è il complotto lì non agiscono? Ma problema vostro, sai qual è il problema vostro di voi? Non è vero, non è vero, io ti sto dicendo candidamente che Intergeno non c'era in vigore, che all'andata Bisse e Caspinto Strottmann, te li so dire l'elenco degli errori a favore, ma anche contro ci sono, però l'elenco contro non se lo ricorda. No, no, ma l'hai ricordato tu adesso, sentiamo anche gli altri. Io credo che il problema è che se stiamo qua, siamo qua in quattro noi, tutte e cinque, siamo cinque squadre diverse e stiamo quattro giorni. Scusami, perché ci sono anche io. No, parlavo di qua. Vabbè, anche lui. Eh, di qua, è lui, va bene, sei, madonna, ragazzi. Io sto dicendo, si sta facendo... Si aggrappa a tutto, eh. Si sta facendo. No, però fammi dire, fammi dire che è una cosa un po' seria. Allora, se ognuno racconta le problematiche che ha avuto la sua squadra e le situazioni che ha avuto contro, non finiamo più. Vittorio ha fatto un dossier con... Aspetta, io invece voglio andare oltre, voglio andare oltre. Secondo me è la qualità degli arbitri e chi li mette che è scarsa, lo stiamo dicendo dall'inizio, ma ti spiego perché. Viva! Fammi dire perché. Stessa situazione, due arbitri dovrebbero intervenire nello stesso modo. No, due modi diversi. Ti faccio un esempio. Sommer a Firenze. Uscita con i pugni, prende la palla, poi prende l'avversario, rigore. No, non voglio dire l'Inter-Juve. Per caso è Inter-Juve. Uscita di Scesni, di pugno con la Sarnitana, prende la palla, prende l'avversario, non dà rigore. Un altro arbitro. Mi fermo qua. Cosa voglio dire? Che se gli arbitri e chi li allena, io non so se hanno un allenatore, chi li allena, non gli dici di intervenire nello stesso modo, nello stesso episodio, noi saremo qua a parlare per cent'anni con 3.000 VAR. Non c'è niente da fare. Perché se tu vai a vedere, e lo vediamo tutti, stesso episodio, nella stessa domenica magari, da una parte e dall'altra, lo interpretano in modo diverso. Gli arbitri non sono coerenti. Fammi aggiungere una cosa. Ditemi una cosa, ma ci sarà un regolamento? Ci sarà un regolamento? Il problema è che il regolamento c'è, ma se... No, ma spiegami il regolamento. Scusa, ma aggiungo una cosa. No, ma ti faccio la domanda. Aspetta, ti faccio la domanda. Fammi un esempio del regolamento che c'è sull'uscita del portiere, che prima prende la palla di pugno, poi nel volo prende l'avversario. Per me quello non è rigore in nessun caso. Come mai uno dà rigore e l'altro no? Perché uno sbaglia. Perché non è oggettivo, ma è soggettivo. E allora capisci che c'è uno che sbaglia. Mi chiede il motivo di discussione. Lì c'è uno che sbaglia. Ha ragione, ha ragione lui. E però gli arbitri ti dicono che si deve interpretare in alcuni casi. Dice uno che sbaglia è quello di Firenze. Sì, ma ho capito. Quello è un errore. Però il problema, Giacomo, fammelo dire. Il problema ti fa parlare per sempre. Perché se io ho un regolamento e va a interpretazione, non fidiamo più. Il capo degli arbitri, Rocchi, nell'ultima puntata di Open Bar, Lazio-Milan, l'episodio di Mignan su Castellanos, dice è un rigore che si può dare come no. Ma come è un rigore che si può dare come no? Sei il capo degli arbitri, dimmi se è il rigore o no. Il rigore che si può dare come no? E allora basta. Chiudiamola qua. Seppure il capo degli arbitri è scarso, ce ne andiamo. No, no. Allora posso dirvi? Dai. Allora, nel momento in cui io prendo la palla, se io prendo la palla e prendo l'avversario, prima prendo la palla e poi l'avversario non è mai rigore. Questo è il regolamento da adesso. La devi spostare. Non deve essere più nella disponibilità del giocatore, però non devi neanche procurargli il danno. Scusa, Fede. No, è sottile. No, ma se ha detto quello che ha detto Manu... Io mi aspetto che il capo degli arbitri mi dica è rigore oppure no. Ha sbagliato oppure no. Non 50-50, eh, si poteva dare un po' no. Ma se il capo degli arbitri, se non lo sente chi lo deve sapere. Lui ha detto, Rocchi, ha detto, accettiamo la decisione dell'arbitro, ma se avesse dato rigore sarebbe stato confermato anche il rigore perché sarebbe stato giusto lo stesso, è vero. Michele, Michele, tu che dici di questo caos? E meno male che il VAR doveva aiutarli. Eh, ma se il VAR è usato da gente che non sa usarlo, cambia poco il discorso di VAR. Agli arbitri sono scarsi, il capo degli arbitri non vuole prendere decisioni perché è in preda una lotta politica. Dico che bisognerebbe aiutarli, gli arbitri, a sbagliare il meno possibile. Secondo me, la butto lì e do un consiglio alla federazione degli arbitri, che si mettessero vicino qualche ex calciatore che diventa credibile, più credibile di loro con i giocatori. Perché i giocatori, se vedono che ci siamo di fianco a un arbitro, io, Giacomo, che abbiamo giocato a calcio, intanto le simulazioni spariscono. Quando fai un discorso nello spogliatore e dici ragazzi dateci una mano, non ci prendiamo in giro perché chiaramente in questo momento il giocatore, sapendo che c'è il VAR, è un alibi che si butta per terra tutta la vita, simula e quindi dice aspettiamo. Quindi è un calcio falsato. Sì, perché tanto basta che ci sia un contatto e può essere visto. Ma fanno ridere, fanno ridere quando fanno queste sceneggiate. Io mi rendo conto che sia una cosa difficile perché ogni calciatore magari ha giocato in una squadra e quindi sarebbe... Però se vuoi aggiustare e dare una mano agli albitri, l'unica strada da percorrere è quella. Devi farti aiutare. Cioè noi, io, Giacomo, ma chiunque abbia giocato a calcio, quando si arbitra, gli allenatori, quando arbitra le partitelle in allenamento, ma ci sono mai dei problemi? Ma mai? L'allenatore è un ex calciatore... Perché tu riesci a capire immediatamente se la gomitata l'ha data apposta, se il piede l'ha alzato apposta. Ma a parte questo, però secondo me Michele c'è una cosa fondamentale, perché altrimenti non finirà mai. Cioè se tu metti una regola, deve essere quella per tutti gli albitri. Non che uno lo interprete in un modo, l'altro lo interpreta in un altro modo. Eh ma se il presidente degli arbitri risponde così dicendo che non è il rigore che si può dare, come no... Ma aggiungo che c'è anche un altro problema. L'età dell'arbitro che dice se... perché il calcio è uno sport di contatto, non ci può esistere sempre una cosa che tu dici in questo caso è così, perché la spinta devi valutare se è tale da aver fatto... Michele mi fai aggiungere una cosa per favore? A me piace la cultura sportiva che si accetta l'errore arbitrale come quello di un calciatore, come quello di un allenatore, come quello dei protagonisti che sono in campo. Quindi l'arbitro può sbagliare. Quindi a volte noi enfatizziamo anche tanto, proprio perché abbiamo magari il tifo per una squadra piuttosto che per un'altra. Quando invece in Inghilterra ad esempio l'arbitro, vedi che a volte non sa neanche chi è. Però quest'anno ci sono polemiche incredibili anche là, l'ultima sul Liverpool, ho visto il titolo del Telegraph l'altro giorno, si parla di furto. In Spagna si parla di derubati. Ma molto meno che da noi, dai da noi ogni domenica ci sono 3-4 casi eclatanti. In Spagna stanno arrivando allo stesso livello dell'Italia. Guarda il caso del gol annullato a Bellingham al 98esimo con la roba di schiava finita. Quella è una cosa che io non avevo mai visto onestamente. Sai dove c'era? C'era una puntata in cui c'era Fischio alla fine con la palla che sta ancora rotolata. Esatto, era un cartone animato però. Va bene ragazzi, noi dobbiamo andare in pubblicità, abbiamo ancora tante cose di cui parlare anche in questo post partita, c'è tutto un discorso Inter, c'è un discorso Juve da fare. Attenzione all'Inter perché l'Inter vola, gioca bene, vince e il suo allenatore non ha ancora rinnovato il contratto e ci sono delle sirene importanti che arrivano dalla Premier League a trapposti. Allora rieccoci, le sirene inglesi su Inzaghi, Liverpool pensa a lui per il dopoclop. Io leggo questo nel nostro titolo, allora intanto voglio cominciare con... Con Michele. No, e voglio cominciare con te stavolta perché tu non me la racconti giusta, cioè tu magari qualcosina la capti. Io no, Michele sa, vero Michele? No, io non lo so, no, a parte di scherzo, secondo me rimane, questo è il mio pensiero. Il contratto di scadenza l'anno prossimo come Pioli, come Allegri, anche la stessa situazione di Pioli e Allegri. No, 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 prego, prego, parliamo tutti. No, perché sennò è anche dono io. Vuoi sentire Michele cosa dice prima? Ah, deciditi, o rispondi tu o facciamo rispondere Michele? No, questo è il mio pensiero, chiaramente. No, io penso che rimanga, anche perché si è instaurato un rapporto, è vero, perché noi sappiamo che comunque gli allenatori, i giocatori, se un anno fanno bene, le sirene inglesi sono lì puntate. Però è allettante l'offerta di un Liverpool che ti dice, va via Klopp, vieni qua tu, cioè ti lascia una squadra che magari ha vinto la Premier, magari, non lo so, Liverpool potrebbe vincere, potrebbe vincere il City, potrebbe vincere l'Inter. Scusa, se la vince l'Inter? La Serie A, dici? La Champions. Eh, la volta buona che magari va via lui, per sua scelta. No, allora, non fare ipotesi, lui mi ha fatto una domanda e dice, sta sul discorso, non andare a fare... Ah, ma se vince il Scudetto e il Champions... No, va bene. Cosa può fare di più? Allora, questa è una squadra che lui ha avuto. Scusa, ma la domanda che mi ha fatto un'altra, non è quello che stai dicendo tu, la domanda è, giustamente, no, la fai dopo, prima rispondo lui, allora, il discorso è che tu mi hai chiesto giustamente se il Liverpool ti chiama una squadra che vince il campionato, una squadra che magari può vincere la Champions, io ti dico che la vince l'Inter, secondo me, vediamo cosa dici. Ah, la spari così, questa bomba, la Champions, la Champions, la Marcello, ma Marcello allora hai ragione quando dici che c'è un cuore nerazzurro lì sotto, Marcello, adesso Marcello ti risponde che però in Champions non può prendere gli abiti... Ma scusa, ma tu cosa c'entri? Stiamo parlando io e Fede, fammi finire. Parlate voi. Cosa c'entri? Aspetta un attimo! No, 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 ma lo sappiamo da sempre che Giacomo è un tifoso di Juve, interista, lui è interistissimo, un ultra-unterista. Allora, Marcello, dipende, stasera per sempre sono interista, domani sera posso essere anche milanista, sei sempre interista, sei sempre stato interista, la tua famiglia è una famiglia di interisti. No, la mia famiglia, mio fratello è interista, scusatevo dire, io posso dire, allora lo ripeto qua che Michele non l'ha mai sentito, dato che lui dice che sono interista, Michele io gli ho risposto sempre a Marcello che se gioca all'Inter, basta che non giochi col Torino, io tifo Inter del tipo, tifo per mio fratello, simpatizzo per l'Inter, ma basta che non giochi col Torino, però lui, scusa, se tu hai un fratello che è dall'altra parte, cosa fai? Io tifo per la mia scusa, lui non ci crede, a prescindere, lui non ci crede, detto questo, secondo me, lui rimane perché ha le possibilità, secondo me, anche quest'anno di arrivare in fondo in Champions. Quindi rifiuterebbe, qualora gli arrivasse un'offerta del Liverpool, lui ci rimango qua. Il fondo di verità sull'interesse della Premier è che si sta parlando tanto anche in Inghilterra, ieri per esempio la trasmissione con Harry, ma ce ne sono state tanti approfondimenti anche ovunque che ci sono sul gioco dell'Inter. Harry ha detto delle cose molto positive, l'interscambiabilità dei giocatori, il centravanti che viene dietro e le mezziali o gli esterni che vanno in mezzo al campo, i difensori avanti. Insomma, è un'evoluzione del calcio che anche ieri ne parlava Gasperini, dove oggi tu puoi andare a prendere l'avversario uomo a uomo, ma ti trovi l'uomo che ti aspettavi in un'altra zona di campo. Su questo l'Inter di Inzaghi, da lui costruita fino a questo livello, perché questo è il terzo anno, è con Inzaghi che è arrivata a questo punto. Quindi, in questo momento, a parte che Inzaghi, già la Lazio ha fatto vedere di stare tanti anni, quindi è un allenatore, perché devi avere anche l'indole, secondo me, a voler stare più tempo in un posto. E lui ce l'ha questo tipo di indole. Poi sta bene a Milano, con una squadra che non ha espresso ancora tutto, anche se quest'anno vince lo Scudetto e magari fa un quarto di finale di Champions League, lui sa che l'anno prossimo può continuare a divertirsi anche lavorando nell'Inter. Sì, tutto quello che sta dicendo. Ritorniamo al discorso di Michele, quello che diceva prima. Cioè, è tutto un sistema che c'è dietro, Marotta, Ausilio, che comunque l'allenatore, il gioco della squadra lo dà l'allenatore. Questo non c'è dubbio. Però comunque c'è dietro una squadra dove, ragazzi, almeno dal punto di vista personale non puoi non fare i complimenti, perché comunque ha preso dei giocatori a parametro zero, non indifferenti. L'anno prossimo arriveranno già due a parametro zero, che sono Zelischi e Tarelli. E anche vero che in Italia non ha avuto avversari, fino a un certo punto l'ha avuto, ma poi non ha avuto avversari. Però Michele, proprio su questo, l'anno prossimo, Milano è giù. Michele, io volevo stare lì, sul discorso della situazione economica, che noi sappiamo che comunque non è una cosa semplice. Hanno fatto i complimenti. Bisogna fare i complimenti a tutti. Inzaghi è, diciamo, l'ultima pennellata, perché è quello che dà il gioco alla squadra. Però anche la dirigenza, la società comunque ha fatto un lavoro, ha fatto un lavoro pazzesco. Si parla bene di Inzaghi, ma se toglie di Inzaghi Marotta, ausilio... Manu, guarda, prima, io ho ascoltato quello che ha detto Michele e mi ricordo, ci deve essere un tutt'uno. Perché se c'è uno e manca l'altro, parlando seriamente, manca sempre un pezzo e non ce la fai. Se invece tutte e due fanno un lavoro alla grande, come lo stanno facendo, allora sì che puoi andare. Ecco perché io ho detto che secondo me, sì, il Liverpool è una squadra che chi è che non andrebbe. Però lui qua, sono d'accordo con Michele, e poi può succedere tutto. Ma lui è molto legato ai risultati. Cioè lui l'anno scorso di questi tempi, l'Inter non andava bene, lui era di fatto quasi fuori. Tutto vero, però Federico adesso a fine di questa stagione... In premier è diverso, magari ti fanno costruire... Sì, però a fine di questa stagione ci sarà sicuramente, perché la dirigenza lo vuole, prolungamento e adeguamento. Con una squadra che lui conosce, che probabilmente avrà le stesse basi, a meno che non arrivi un'offerta per qualcuno, quello può sempre succedere. Però proprio quello che è adesso lo spunto che dava Michele, quando diceva gli avversari che non ci sono stati o sono stati meno forti quest'anno, l'anno prossimo c'è l'Inter, quest'anno si è consolidata, tanti vorrebbero andare su quella panchina. E Inzaghi che l'ha costruito tutto questo dice io ci rinuncio, perché? Perché Milano e Juve oggi non si sa, abbiamo detto Pioli forse se ne va, Allegri un interrogato, ma anche se restano Allegri e Pioli devono prendere chi? Un centrocampista la Juve, il difensore l'attaccante il Milan, mentre l'Inter è una squadra già fatta, due, tre, no? Ma per dire tanti, uno, due, tre, l'Inter invece è una squadra che è già preparata, è già fatta. Il grosso del lavoro è stato fino adesso, da adesso in poi arrivano i frutti, no? Adesso ribalto la questione, se vinci Scudetto e Centro, dato che Giacomo dice che l'Inter vincerà la Champions, lo Scudetto è praticamente vinto, se vinci Scudetto e Champions, tu inzaghi, cosa puoi fare di più? Ma cos'è che dà sta sicurezza a Giacomo? Io vorrei capire. Lo so, io sto seguendo il discorso di Giacomo. Marcello, la forza di questa squadra, quando la vedi giocare, adesso per esempio ho giocato con degli interpreti diversi, ti faccio un nome su tutti, che qua c'è Michele e si ricorderà. Io stravedo per Aslani da quando giocava nell'Empoli. E non trova a cercare sempre Scudetto. No, ti sto dicendo, giocalo, Michele, Michele, ti deve dire sempre sì. Non è che ti dice sempre sì. Posso dirti, il modo di giocare, il modo di giocare, e chiunque entri, Aslani al posto di Cialanoglu, non è Cialanoglu, però comunque è un giocatore che sa interpretare quello che fa Cialanoglu, con le caratteristiche di Aslani. Allora, la cosa fondamentale di quest'anno, e io l'ho notata, ma l'avete notata anche voi, che è diversa dall'anno scorso. L'Inter è migliorata tanto nella fase di non possesso. Come perde palla, sono tre o quattro, quelli più vicini alla palla vanno ad aggredire. Può essere l'attaccante, può essere Lautaro, può essere, non so, Turam. Chiunque è vicino alla palla vanno ad attaccare in un modo, mi sembrerà di vedere, adesso, con rispetto parlando, vi ricordate il Barcellona, la forza qual'era? Che nel momento in cui perdeva palla andava a recupero. Però quest'anno, rispetto all'anno scorso, ha questa qualità. Però stai facendo di tutto pur di non rispondermi. Se vince Scudetto e Champions, tu inzaghi, resti o vai via? Eh sì, perché l'anno prossimo vince, lo Scudetto un'altra volta, Coppa Italia e Supercoppa. E la Champions di nuovo. E la Champions, vediamo. Emanuele, se vince Scudetto e Champions, anziché fargli un anno di prolungare, gli hanno scudetto un'altra volta. Scusa, come l'ho scudetto un'altra volta? Dice l'anno prossimo. L'anno prossimo! Lui ha capito perfettamente, però non vuole dare questa sponda a tramacere. Ha già vinto il prossimo. Ha già vinto il prossimo. Eh sì, 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 sì. Lui sta già andando lì. Padovano, tu che dici su Simone Inzaghi? Ma io credo che bisogna vedere lui che cosa ha nella testa, perché è un'esperienza sicuramente all'estero, nel curriculum di un allenatore, formerebbe in maniera importante. Quindi gli vanno fatti i complimenti sicuramente, perché quando si vince non è mai semplice, quindi il lavoro dell'allenatore è sempre importante. Ma va diviso con tutti gli altri, come giustamente gli altri, come giustamente è stato detto. Società, giocatori, allenatore. È una squadra che funziona, ha una grande autostima, giocano bene, creano tanto, però non ha avuto avversari quest'anno. Quindi la prova contro l'Atletico Madrid, secondo me, sarà una prova fondamentale, perché qualora dovesse passare il turno battendo l'Atletico Madrid, allora secondo me potrebbe veramente fare molto bene anche in Europa. E noi lo vogliamo di cuore, mi crede. Noi da italiani glielo vogliamo di cuore. Bravo Marcello, questo è il vero sportivo, grande, bravissimo. Tu sarai tifoso dell'Inter quella sera, giusto Marcello? Ma certamente, con le trombe. Ha comprato le magliette a posto dell'Atletico. Però io voglio dire una cosa, scusatemi allora, se mi permettete, se posso rovinare questi digli o se posso rovinare questi digli o se posso rovinare questi digli. Dipende a quello che deve dire. Questa rappresentazione, questa rappresentazione di unirica dell'Inf. Beh, seconda stella, senza lo scudetto di cartone che avevano regalato. Adesso vincereste il diciannovese. Ma se quello ne vale tre. Ah, ma per voi vale sempre tutto quello che decidete voi. Comunque, io reputo che l'Inter, tutto quello che è stato detto, io lo sottoscrivo. Perché secondo me Inzaghi ha fatto un gran lavoro, è migliorato tantissimo. Io quando vedo l'Inter mi diverto. Mi dispiace dirlo, ma mi diverto perché gioca un bel calcio, perché vedo che è una squadra forte, è migliorata tanto, anche nella fase di riaggressione, tutto quello che diceva anche Giacomo. Mi piace. Io dico, però, l'Inter è molto forte in campo, è forte anche fuori dal campo. Politicamente è forte. Adesso interpretate come volete quello che vi sto dicendo. Però, secondo me... Specificalo bene, Marcello. Dillo bene. Adesso specifico... No, adesso specifico bene. Secondo me l'Inter non sta rubando il campionato, perché l'Inter è forte. Ma se non avesse avuto tutti quegli episodi di cui parlavo io prima, tutte quelle facilitazioni che... Adesso sarebbe in testa, ma lo scudetto non sarebbe chiuso come è già chiuso. Sarebbe ancora aperto. Marcello, ma ti voglio chiedere questo... Perché la Juventus è stata testa a testa con l'Inter. Però durante il testa a testa, quanti episodi ci sono stati anche lì a favore dell'Inter che non hanno permesso alla Juve di staccare l'Inter? Ma di nuovo su Stago, ma tu ti ricordi solo alcuni. Perché c'è stato un testa a testa. Tu te ne ricordi solo alcuni. Ma tu mi tiri fuori le comitate di Gatti. Ma tu tiri fuori le comitate di Gatti. Ma ha fatto cinque partite, ha fatto punto. No, ma ti voglio chiedere, ti voglio chiedere, Marcello, aspetta, perché l'Inter in questi cinque anni ha vinto un solo scudo. Tu tiri fuori di Marco con l'Atalanta. Tiri fuori di... Ma una partita vinta. Tu mi tiri fuori gli episodi di Marco con l'Atalanta. È una partita che hai vinto. Una partita che hai vinto. Ho capito? Erano 2-0, si è riaperta la partita con un gol che però nasce da un'azione fallosa. Ma adesso no. Siccome ne abbiamo parlato già mille volte degli episodi, se vuoi facciamo l'elenco, però diventa noioso, forse. Allora ti dico, tu adesso stavi affrontando un altro argomento. Cioè, dici, è forte politicamente. Io credo che nell'Inter ci sia un dirigente riconosciuto come da tutti, molto bravo, anche in quella... Questo dirigente, da quando c'è finora l'Inter, ha vinto uno scudetto. Alla Juve ne ha vinti 7,5, perché l'ultimo anno ha costruito e poi se n'è andato a novembre del 2018. Quindi mi vuoi dire che il ciclo della Juve, dei 9 scudetti e due finali di Champions... È stato fatto perché era forte politicamente. Perché era forte politicamente, non perché era nettamente più forte. Vi ricordate? Quali sono tutti gli episodi che vi ricordate di tutti i campionati 7 che dicono. Sai che posso... Michele potresti suggerire... Ho capito, ma... Ma scusa, ma... Ma Marcello, io mi ricordo due episodi dei 9 scudetti della Juve, diciamo che possono essere discussi. Gli altri 7 anni non c'è niente da discutere. I due che discuto sono uno che ti stavi giocando lo scuetto punto a punto col Milan e l'altro punto a punto col Napoli. L'Inter ha più 15, ha più gol fatti del Real Madrid, del City, ha meno gol subiti del Real Madrid, del City, ha differenza reti record, ha tutte vitte... Come fai a fare... Diciamo, se la gioca con la Juve di Conte che ha fatto 102. Ma la differenza... Tu stai parlando che gli episodi mi toglievano i punti. Genoa-Inter, Bissek spinge Strotman. E te lo dico pure io che ha spinto Strotman. Siamo 0-0 al quarantesimo. E tu non vinci quella partita. Ma non l'ha vinta, è lo stesso, è finita 1-1. È finita 1-1. L'Inter segna il gol in modo irregolare. Ma per me non la pareggi nemmeno. Ma che ne... Allora, siamo al quarantesimo. Il Genoa segna su calcio d'angolo perché sotto di un gol. Non la pareggi nemmeno. Per me non la pareggi nemmeno. Ho capito, per te non la pareggio, ma non c'hai la controprova. Io ti posso fare l'elenco. Juve Verona, se resti in dieci, la vinci al novantaquattesimo in dieci. Con l'Empoli non l'hai vinta. Anche perché c'è della gente che non si ricorda, secondo me, quello che state dicendo. No, io volevo dire una cosa. Fare una domanda a Marcello. Ma se non avesse avuto tutti i favori, che dici te, a quanti punti era dalla seconda, secondo te, Marcello? 4-5. Vabbè, il campionato aperto. Allora, rieccoci. Si parlava di Inter. Tra poco io volevo parlare di Juve, però avevo interrotto per questioni pubblicitarie un momento caldo della trasmissione, no? No, perché Chirico aveva detto una cosa. Si ha tolto dieci punti in una seconda. Si, Chirico ha detto, senza errori arbitrali, l'Inter sarebbe prima, sarebbe comunque prima, ma invece che avere quindici punti sulla Juve, ne avrebbe quattro. Ma sai su che cosa si fa? Quindi 11 punti in meno all'Inter. Allora, i sette in meno della Juve e gli otto in meno al Milan non li ha tolti, però. Eh, infatti, al Milan la Juve non glieli toglie. Solo all'Inter non toglie. Perché i sette in meno alla Juve? Eh, Juve Bologna, uno a uno, te la sei già ascoltata, Juve Bologna. Oh, Juve Bologna. Eh, di bello. Eh. Espulsione e rigore sullo 0-1. Quanto finisce, secondo te? 0-1 espulsione. Ma non hai la controprova. Rispondi, rispondi. Non hai la controprova. No, dice che Genoa-Inter 0-0. Non hai la controprova. No, lui dice che 0-0 Genoa-Inter ha nullato il gol all'Inter, vince il Genoa. Non si capisce secondo quale logica. Juve Bologna 0-1 a un quarto dalla fine, espulsione e rigore, non vince il Bologna. Certo che è un po' cervellotica come cosa. Ma sì, ma io non ti sto negando quello che io... Mi hai tolto 11 punti in una frase. Però io ti dico, però io ti dico che tu ti ricordi quelle le gomitate di gatti. Io invece mi ricordo 10, 12, 13 episodi a favore dell'Inter. 12, 13! Addirittura 12, 13! Ma dove stanno questi 12, 13? Tu conti quelli che vuoi. Ah beh, allora ognuno conta quello che vuole. Io conto quello che vuole. Sai cosa diceva il grande Franco Rossi? La buonanima di Franco Rossi dice io mi posso mettere la maglia con l'iridesco e dico sono campione del mondo, ma mi ci credo. Non me ne frega niente di quello che dicevano quelli. Allora, tu ascolta quello che dicevano. È un grande giornalista. Tu prima hai detto in sette anni di Mario. Io mi ricordo due grandi episodi macroscopici. Mica te ne ho detti tutti. Due. Due in sette anni. Io me ne ricordo. No, tu ho detto due scudetti in bilico. Due scudetti, non due episodi. Due scudetti in bilico. Marcello, in sette anni, scusa, mi fai capire anche me? In sette anni due. In sette anni hai avuto due episodi a favore? No, io infatti non ho detto quello. Io ho detto che erano due scudetti in bilico. No, due scudetti in bilico, sì, sono stati due. Va bene ragazzi, io credo che non troverete mai un punto di incontro. Quindi alla fine cosa conta? Cosa ci hanno insegnato sempre Marcello e tutti i suoi amici? Che conta l'albo d'oro? Perché là ci mette tutti d'accordo. Fammi sentire anche Padovano su questo tema. Infatti c'è l'albo di cartone. Ancora? Aspetta, Michele, Michele. Tu dici che gli arbitri quanto hanno inciso? Se hanno inciso, perché magari pensi di no. Non mi piace entrare in questa polemica, perché secondo me alla fine vince sempre la squadra più forte. Mi piace pensare che... Infatti noi la lasciamo in testa, Michele, noi la lasciamo in testa, l'Inter. Non mi che gli stanno dicendo che l'Inter deve essere terzo o quattro. Un punto in più della seconda, però con un vantaggio non di 15 punti. Lui si confonde che l'anno scorso gli hanno tolto 10 punti e vuole fare meno 10 anche noi. Ma c'era un motivo l'anno scorso, Marcello. E quindi mi piace pensare che le squadre più forti... L'Inter è una squadra che gioca bene, divertente, come ha giustamente anche sottolineato Marcello. Oggi se vogliamo vedere un bel calcio bisogna guardare l'Inter. L'Inter gioca bene, le altre purtroppo sono assenti. A Juventi, il Napoli dell'altro anno che ci ha divertito così tanto. Quindi, ripeto, voglio vedere la prossima settimana questa partita di Champions. Secondo me per l'Inter sarà veramente fondamentale per il proseguo della Champions. Il campionato oramai è già... Mercoledì prossimo ovviamente saremo qui per raccontarvela. Vabbè, Michele, ti ha già detto l'interista, l'ultra... Giacomo ha detto che lì tranquillo. Io so che mercoledì ci sarà un temporale su Torino, proprio vicino a casa tua, dove salta Sky, salta tutti... Non la vede, dici la partita. Non la vedi te, Marcello. No, visto che parlavamo di Juve, del fatto che la Juve è stata assente, come il Milan anche, a livello di lotta scudetto, secondo Michele, il nostro titolo sulla Juventus dice che il secondo posto è tornato a rischio con la sconfitta di Napoli e anche la conferma di Allegri è in bilico, nel senso che non si è capito se la Juve lo vuole tenere perché ha il contratto o lo vuole tenere perché realmente ci crede. Io vi faccio ascoltare, facciamo un passo indietro, torniamo alla vigilia di Napoli-Juventus, quindi non si era ancora giocata la partita del Maradona. Viene fatta una domanda da Allegri in conferenza stampa, gli viene chiesto il solito tema sul suo futuro e lui risponde così, un po' piccato, sentiamo. In questo momento credo che, a parte che non abbiamo parlato ancora di futuro con la società, quindi questo che sia una cosa ben chiara a tutti, ho un anno di contratto ancora, la cosa più importante credo che sia finire al meglio questa stagione perché comunque abbiamo ancora degli obiettivi da raggiungere e poi dopo, quando la società e i dirigenti avranno deciso quale sarà il futuro della Juventus, me lo faranno sapere. Quando i dirigenti avranno deciso quale sarà il futuro della Juve, me lo faranno sapere. Non lo so, insomma, non ci vedi un po' di... Andiamo a vedere in grafica, sono importanti anche le parole di Branchini. Tra l'altro, rilasciate praticamente subito dopo questa intervista di Allegri. Io penso che Allegri resterà la Juventus, dice Branchini, ha un contratto e ha dimostrato il suo legame con il club. Di solito si cambia un allenatore quando non si è contenti. Se c'è qualcuno che potrebbe mandarlo via, ciò è sempre possibile. Vedremo quali saranno le idee della Juve, ma con questa proprietà può succedere di tutto. E' questa dichiarazione che è forte, eh? Ha ragione. Che dice Michele? Ha ragione. E' questa dichiarazione che è molto forte. Sì, sono d'accordo, ha ragione, ma comunque la Juventus è seconda. È in Champions, all'inizio della stagione gli è stato chiesto ad Allegri porta la squadra in Champions e valorizza i giocatori della Next Gen. Questo è successo, quindi io credo che per questa stagione i dirigenti della Juventus possano essere soddisfatti. Detto questo vogliamo parlare del gioco della Juventus che chiaramente ha latitato, vero, e quindi Giuntoli avrà il suo da fare per o riconfermare Allegri con un altro tipo di squadra oppure cambiare l'allenatore e orientarsi su altre idee. Su questo credo che non ci siano dubbi. Secondo me la Juventus per il prossimo anno farà il lavoro giusto. Io mi fido molto di Giuntoli, credo che sia la persona giusta nel posto giusto. Ma con Allegri o senza Allegri? Questo non lo so. No, è una tua opinione. Non dico che tu sai quello che succederà. Senza. Senza. Tu dici senza. Cioè è finito quel ciclo, diciamo, il ciclo dell'Allegri bis. Lo vedi... Secondo me senza Allegri. Fermo restando che ha fatto un buon lavoro quest'anno perché secondo in classifica la Champions l'ha raggiunta con la stessa squadra dell'altro anno che è stata martoriata sotto tutti i punti di vista, sotto tutti i profili. Quindi... E l'aveva raggiunto anche l'anno scorso. Non dimentichiamo. Infatti. Sul campo sì. Marcello, Marcello, anche tu eri d'accordo che il tempo di Allegri è finito secondo te. Sì, allora, io voglio chiarire una cosa. Nel senso che non a caso Allegri dice quella cosa e poi è stato ancora più piccato nel dopo partita di Napoli-Juventus quando gli hanno chiesto sempre delle contratti. Ma quando Branchini, che ripeto, non è il suo agente, è uno che gli cura degli interessi, ma non gli dei contatti, delle cose, ma non è il suo agente, gli dice, dice, ma con questa società posso... con questa dirigenza posso succedere di tutto. Dice la verità perché Allegri non è stato scelto da questa dirigenza, è stato scelto da quella precedente. Certo. Quella precedente dove c'era Andrea Agnelli, aveva scelto, l'aveva richiamato e gli ha fatto il megacontrattato. Marcello parla di proprietà, non di dirigenza. Allora io sono andato a cercare la frase. Proprietà, proprietà. Perché anche a me veniva il dubbio. Lui ha detto compagine societaria, compagine societaria è stato il termine che usa, perché anche io ero stato... Sì, però compagine societaria io vi dico anche che Giuntoli, che non è venuto alla Juve per non fare niente, è venuto alla Juve per costruire un nuovo progetto di Juventus e c'ha in testa una sua Juve. Finora non ha fatto niente, finora non ha ancora operato Giuntoli, ma vorrà lavorare questo Cristiano, che ne senti due sensi, cioè Cristiano Giuntoli vorrà fare il Giuntoli. Per fare il Giuntoli lui vuole, mano libera, vuole fare la Juventus come ce l'ha in testa lui, con i giocatori che è in testa lui, con l'allenatore che è in testa lui. E al momento c'è l'allenatore che è in testa lui e Tiago Motta. E io vi dico che il prossimo anno Tiago Motta sarà l'allenatore che è la Juventus. Ma posso fare una domanda? Sì, vai Giacomo. Ma Giuntoli ha la forza di poter decidere lui qual è allenatore, che giocatore, o secondo te Marcello... Sì, perché no, perché a questo punto... No, aspetta, aspetta, aspetta. Un attimo, un attimo. No, è la domanda che ti sto facendo. Giuntoli ha la possibilità di avere carta bianca di scegliere, allenatore, giocatore, eh? O secondo te deve andare di pari passo con la società? Tutte e due le cose. Scusami, allora, dicevamo prima... Allora non puoi fare quello che vuoi dire. Allegri è stato scelto da Andre Agnelli, Giuntoli è stato scelto da Gionelka. Anche perché... Allora, scusami, se tu chiami un direttore sportivo come Giuntoli, lo porti via dal Napoli, lo porti via dal Napoli, con la fatica che hai fatto a portarlo via dal Napoli, cioè vuol dire che tu hai in testa di fargli fare la squadra che vuole lui. Quindi Giuntoli parla con Elkan e gli dice, guarda, io vorrei fare la squadra così, così, così. Sennò cosa l'hai preso a fare? Per fare niente? No, è certo. Per fare niente poterli lasciarlo. Deve andare di pari passo con John Elkan. Però io ti volevo dire anche questo. Sì, ma John Elkan... No, volevo dirti questo, Marcello. Sul discorso, a parte John Elkan e Giuntoli, va benissimo, ma poi alla fine tu devi fare una squadra oggi per l'anno prossimo, devi cominciare adesso, ma devi fare una squadra per l'allenatore in base alle caratteristiche dell'allenatore. Sì. Perché non puoi fare una squadra e poi dici, poi scelgo l'allenatore. Perché se non sbaglio, la Juventus, quando poi è andata su Sarri, ha fatto quell'errore. Perché ha fatto la squadra, poi Sarri non era la prima scelta ed è arrivato Sarri poi. Sarri ha dovuto allenare una squadra che non era la sua. Ha fatto bene, perché per carità ha fatto bene. Però io credo che Congiuntoli, che è uno che comunque sa operare sul mercato, è uno che ha esperienza, sa che prima di iniziare a comprare i giocatori con determinate caratteristiche deve fare l'allenatore. Perciò, prima l'allenatore e poi faccio la squadra. Però c'è sempre il dubbio che Allegri sia in qualche modo tenuto lì da questo contratto. L'allenatore c'è l'ingaggio alto un altro anno, non lo so se iniziare la stagione Ma io non voglio pensare che la Juventus si fermi davanti a un ostacolo di questo tipo perché la Juve è la Juve, ragazzi, quindi ci sono 18 milioni in ballo, è paziente. L'anno scorso poteva essere perché erano due anni, adesso è un po' diverso. Il contratto di Allegri. Ah, sì. Io volevo aggiungere però un aspetto sulle parole di Allegri costa. No, ma è quello che anche io in parte il ragionamento anche della società. Sposto un attimo il ragionamento di un'altra parte. Ti volevo dare un altro elemento anche sulle parole di Branchini. Con Allegri tanto abbiamo tempo per parlare di tutti. Con Allegri ed è una sensazione che ha anche la proprietà. Sei certo che il posto in Champions che è quello che serve oggi oggi all'avvento non serve vincere ma serve ritrovare una stabilità economica prima di tornare a vincere il posto in Champions con Allegri ce l'hai quasi sempre. Ah, sempre. Tecnicamente ce l'hai. Quindi è una condizione che loro hanno. Se tu cambia adesso l'allenatore con Tiago Motta sei certo al 100% che questa Juventus arriva subito alla Champions League? Perché se salti un anno di Champions salta tutto. Ma porta il Bologna in Champions League. Bologna. Porta il Bologna in Champions League. Bologna. 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 Beh, portare il Bologna in Champions non è mica una cosa che succede. Eh, ma la pressione che hai Bologna non è la stessa che la Juventus. quando tu vai a sostituire Allegri e prendi un allenatore come Tiago Motta sei sicuro al 100% che ti porta allo stesso risultato. È un dubbio che hanno nonostante Tiago Motta sia il preferito di tutti. ma tutti vabbè ma non è che tu prendi Tiago Motta e ti dice ma lui parte con un nuovo progetto non è che il prossimo anno la Juve magari dice il nuovo progetto deve essere basato sul restare in Champions League. Ma tu fai un progetto basato basato qua ragazzi abbiamo un personaggio che è Michele che è stato all'interno sa che la Juve magari un anno non vince ma l'anno dopo vuole vincere. Cioè più di lui io sono esterno però mi ha dato questa impressione qua abbiamo uno che ha giocato Michele Padoano Marcello lo sa bene questo bilancio non va per arrivare quarta la Juve questo bilancio sarà peggiore ancora rispetto a quello dell'anno scorso secondo me non c'è secondo te la Juventus va per due anni di seguito per arrivare quarta secondo me l'errore di quest'anno come può essere peggiore come può essere peggiore il bilancio che c'è l'aumento di capitale proprio perché è peggiore l'aumento di capitale l'hai fatto per sistemare quello dell'anno scorso c'era Padovano vai che abbiamo fatto una domanda facciamolo rispondere quello dell'anno scorso non si riesce secondo me si è parlato troppo di quarto posto a furia di pensarlo e di dirlo nella testa dei giocatori è entrato questo meccanismo qua entriamo nel quarto posto e finì e hanno mollato perché fino alla partita contro l'Inter la Juventus era in lotta per vincere lo scudetto era lì attaccata all'Inter quindi alla Juventus tu devi vincere arrivare secondo terzo quarto i tifosi non lo vogliono sentire allora mi sbaglio alla domanda che ti ho fatto la Juve per due anni di seguito può puntare al quarto palo questo sarebbe il quarto anno però di seguito alla Juve devi vincere io non sono stato a Juve ma sono stato lì 40 anni Michele e Torino so bene come ragionano conosco anche il sacco di gente è proprio per quello che sono tre anni che non vince che deve cominciare a ragionare per vincere ma certo che la Juventus deve vincere però un conto anche quest'anno un conto è che tu arrivi con l'Inter fino all'ultima giornata a giocarti uno scudetto e poi ci sta se l'Inter è più forte non è che deve vincere per forza la Juventus se un altro ti dimostra di essere più forte vince un conto invece è già ammainare la bagniera a gennaio a febbraio che sei già 15 punti questo non va bene ma secondo me non ha aiutato ma non ha aiutato hai capito il discorso fatto da Allegri dire che noi dobbiamo arrivare in quarto posto in quarto posto probabilmente l'ha detto anche Giunto lì era l'ha detto solo Allegri ma lo dicevano sternamente ma di fatti Giunto gli è nuovo si ma lo dicevano sternamente lo dicevano non conosce la mentalità eccoci c'era Michele che voleva spiegare una cosa sulle parole di Branchini che non a caso secondo me Agnelli lo diceva anche Marcello sento più niente noi si noi ti sentiamo noi ti sentiamo hanno chiesto alla fine della partita anche ad Allegri di commentare le parole di Branchini e lui un po' stizzito come diceva anche Marcello ha detto ma chiedete a lui chiedete a lui e Branchini non ha parlato solo di Allegri della Juventus ha parlato anche dell'Inter della società dell'Inter facendo i complimenti ai dirigenti dell'Inter e non alla proprietà ha detto che la compagine societaria la società è fondamentale e sempre dice dietro la squadra che fa bene gioca meravigliosamente c'è sempre un'ottima società forse l'unica eccezione nel Napoli dell'anno scorso nell'anno scorso c'era giuntoli allora allora dico io cioè tu lo fai apposta che vuoi provocare perché secondo me quando lui dice la compagine societaria è cambiata può succedere di tutto è un chiaro tentativo di stanare chi deve decidere alla Juve per dire Allegri sediamoci al tavolo andiamo avanti perché Allegri vuol rimanere ha fatto capire che vuol rimanere ma perché fai il riferimento aggiunto riscusa secondo te perché come dicevi tu giuntoli nella sua testa magari anche se non lo dice mai non l'ha mai detto e non lo dirà nemmeno sotto tortura però dentro di sé lo dicevamo anche l'anno scorso arriva vorrebbe iniziare un nuovo corso e allora è quello che ti sto dicendo ma sono d'accordo con te infatti non vuole più Allegri alla Juve non vuole più le dichiarazioni di facciata lui non lo vuole però Marcello c'era una possibilità secondo me c'è la possibilità qual'era a un certo punto all'inizio di gennaio la Juventus ha vinto un paio di partite sembrava che potesse in fiducia iniziare a giocare non so più spesso con Chiesa Ildiz e Vlaovic i sei gol in Coppa Italia Allegri inizia a cambiare anche Espressione inizia a fare le battute tutte le partite si sente più sicuro poi dopo lo scontro diretto c'è un'involuzione c'è una squadra che non ci crede più ci sono dei passi indietro nelle ultime sei partite una sola vittoria e allora anche secondo me un dirigente che dice io ho un gruppo di giovani fammi vedere anche che la squadra l'anno prossimo con due o tre ritocchi con te può andare a giocare non con te ma con te con te Allegri può andare a giocare un calcio più europeo secondo me quello gli chiedono perché li siamo ritornati come il gioco del local al punto di partenza ma come fa Michele come fai a sapere l'anno prossimo con due ritocchi se vai in Europa e puoi dettare l'elezione se io vedo che la Juve perde lo scudetto ma fa 85 punti ha una continuità ha un gioco facciamo un ragionamento no ma il ragionamento Giacomo è che Chiesa ti dice alla fine delle partite che lui vuole giocare un calcio dove si va a prendere alti come dicevi tu lo fa l'Inter alla destra perché c'è anche l'alla sinistra Michele allora e invece lì c'è sempre Vlaovic lontano dalla porta c'è il K e no ma se non mi fai spiegare la mia posizione ho aspettato un intero blocco prima volevo solo chiudere ho capito se non rispondiamo è finito scusa fa finire hai finito allora ti sto dicendo in questo momento ha raccontato quello che ha detto Giuntoli forse quello che ha detto Chiesa forse allora se e ma nel calcio non esistono allora noi siamo all'esterno possiamo supporre sento parlare uno dico un direttore sportivo ah ma forse ha detto diciamo la nostra ma intanto noi come facciamo a sapere dell'anno prossimo cosa succede uno due non sappiamo se rimane questo allenatore due tre non sappiamo che giocatori prendono ho espresso dei dubbi infatti sul fatto che rimanga perché non ci sono certezze ma quando sento che dici magari Giuntoli chiede ad Allegri quest'anno io ho detto no stavi dicendo che l'hai detto te o Chiesa chi l'ha detto cosa quando hai detto che Giuntoli magari chiede a Chiesa o chiede ad Allegri chiede a chi fammi vedere giocare hai detto giusto? sì ho detto che nella testa di un dirigente ma cosa pensa di quest'anno fammi vedere per l'anno prossimo certo vuole vedere se c'è una semina che può proseguire se io vedo dei passi indietro non vado avanti nel pozzo ma ragazzi ma come no nel burrone Marcello non è d'accordo che c'è una semina per te non c'è nulla appunto sì ma l'ho capito anch'io quello che voleva dire Michele comunque io non suppongo Giacomo io sono certo che il prossimo anno Allegri non ci sarà non suppongo Marcello io su questo non discuto perché ognuno può avere il suo pensiero ma se io vado a fare la discussione pensando su Allegri se può rimanere o meno mi deve dimostrare adesso vediamo se poi io ti do due innesti per l'anno prossimo questo non puoi fare un discorso del genere Marcello noi possiamo dire secondo me l'anno prossimo rimane secondo me non rimane quello possiamo dire ma scusa ma uno in base a cosa prende la decisione in base a cosa abbiamo parlato prima del Mina di Pioli abbiamo detto no va via sicuro abbiamo detto che Cardinale considera gli infortuni la decisione non la prendono ad aprile l'han già presa l'han già presa ma non gliel'hanno detta ad Allegri che infatti vanno a dire Allegri che mancano 11 partite Michele perciò Vico Allegri come Murigno con i Fridkin a un certo punto ha iniziato a vedere un po' a affiutare la storia ha iniziato a cercare di stanare i Fridkin che invece sono rimasti al loro posto ma adesso che mancano 11 partiti sto dicendo una cosa che nel calcio è normalissima no non è normale perché se adesso io vado a dire se non vai che ne so non arrivi quarto tu l'anno prossimo non ci sei non ho detto questo non ho parlato di risultato e cosa deve dire? sto parlando di Semina sto parlando di vedere che uno sta facendo un lavoro propositivo per la prossima stagione per il futuro ma la società ad oggi ha già deciso non aspetta aprile ma va va bene va bene no aspetta aspetta tu sai Inzaghi quando è stato chiamato? quando? mentre era a cena con Lotito la sera del 27 maggio stava firmando Lotito ha detto domani mattina ti mando il contratto Inzaghi è stato chiamato mentre era al tavolo era ausilio al telefono e la mattina dopo non ha più risposto al contratto ha firmato con l'Inter perché? perché Marotta era a cena con Allegri per convincerelo per farlo andare all'Inter ma Allegri aveva già visto Agnelli a Pasqua ma quante volte succede? ma perché il Liverpool ha già deciso l'allenatore? il Barcellona ha già deciso l'allenatore ma anche prima cosa c'è? stiamo parlando di Allegri sto parlando del bouncer che ci sarà quando hanno preso Sarri alla Juve era il quarto il quarto allenatore appunto è arrivato l'ultimo ma con Allegri te l'ha appena spiegato adesso con Allegri è un'altra situazione perché la Juventus è arrivato sul quarto il quarto che è stato Sarri perché ha chiesto a uno poi all'altro questa è una situazione diversa tu hai già un allenatore in casa da anni che ha un contratto ha un contratto in essere perciò sai già cosa vuoi fare l'anno prossimo sicuramente perché la società come la Juventus non aspetta a maggio ma l'hai detto tu che è successo che hai aspettato con Sarri per esempio hanno aspettato ma no ma quello l'hanno fatto prima perché non c'era l'allenatore ma è successo già più volte negli ultimi anni tra questi c'era anche Inzaghi che avevano chiesto Inzaghi di andare alla Juve tu stesso prima hai detto sì ma la Juventus in quel momento era una situazione diversa rispetto a questa non c'entra niente tu prima chiedevi a Marcello ma sei sicuro che è Giuntoli che ha il plenipotenziario che decide sull'area tecnica perché fai presa no sull'area tecnica sì ma deve avere il consenso perché dietro ci sono i proprietari ci sono gli Elkan gli Elkan che comunque hanno anche avuto un rapporto abbastanza buono con Allegri John Elkan con Allegri ha un ottimo rapporto quindi Allegri noi il 4 febbraio non sapevamo se vinceva lo Scudetto oppure no il 4 febbraio era ancora tutto possibile e non mi dire che il 4 febbraio con tutto possibile loro avevano già giudicato negativamente quest'anno qua perché non era negativo fino al 4 febbraio no è stato volendo non è negativo neanche oggi ma guardate dopo l'Empoli qualcosa si è rotto scusa Manu se andiamo a parlare sul discorso se ha fatto bene o male dall'anno scorso a quest'anno un altro allenatore non so se avrebbe fatto quello che ha fatto Allegri perché l'anno scorso gli ha levato il giocatore gli ha levato i punti poi i dati e comunque è arrivato sempre in ceglio giusto quest'anno quest'anno in più gli ha levato durante l'anno di nuovo due giocatori fuori già la rosa della Juve è abbastanza sicuro no io non so se rimane un uomo io sono una certezza in tutto ciò i risultati lui li ha portati senza vincere però il minimo l'ha fatto il problema è magari chiedersi se rimane questo è l'allenatore che la Juve vuole per i prossimi anni io rispetto quello che dice Marcello potrebbe essere lo scenario giusto non ho la sua certezza da un punto di vista e anche dell'addio però una certezza ce l'ho quei 18 milioni di euro lordi usciranno dalle casse della Juventus o dandoglielo come stipendio o dandoglielo come buon'uscita ma Michele a te piace Tiago Motta come soluzione ti piacerebbe? Tiago Motta sta dimostrando di essere un ottimo allenatore quindi credo che lui debba avere un'opportunità di allenare una grande squadra su questo non ci sono dubbi però sono anche del parere che un conto è allenare il Bologna e un altro conto è allenare squadre importanti come la Juventus il Mino l'Inter se io fossi nella Juventus io il prossimo anno vorrei vincere quindi prenderei un allenatore che mi dia delle garanzie per lottare per vincere per caso è uno che ha giocato con te quello che prenderebbe Antonio Conte ma io ho grande stima di Antonio Conte perché parlano i fatti per lui dove è andato lui ha sempre vinto quindi Antonio Conte sai che sa già che non lo vogliono e vogliono Tiago Motta questa cosa lo ha io ti ascolto come tu fossi una biglia Marcello stasera sono certezze mi piace che Conte sa già che la Juve non lo vuole vuole Motta allora va Antonio Conte la Juve ha già firmato stasera sappiamo che l'Inter vince la Champions che Tiago Motta va alla Juve Conte fare bene anche in Europa perché in Europa lui fino adesso ha un po' tentennato e quindi ci sono una serie di cose che secondo me porteranno a dirmi io che ho grande stima di Conte che Conte rientrerà con i fuochi d'artificio vincendo il campionato e facendo molto bene in Champions League ma tu dove lo vedi come cioè considerando le squadre cioè lo vedi all'estero lo vedi in Italia ma io dico quello che mi piacerebbe a me piacerebbe che lui allenassi una squadra italiana perché lui è veramente molto bravo io lo ritengo fra i 3-4 allenatori migliori in assoluto al mondo è proprio bravo lui è bravissimo a trasferire ai giocatori in una settimana 10 giorni quelle che sono le sue idee io non ho mai visto nessun allenatore riuscire a a trasferire così le sue idee in campo lui è veramente molto bravo quindi credo che questo anno gli abbia fatto molto bene e lui secondo me rientrerà nella maniera giusta anche le due persone che sono mancate grandi amici anche miei perché Luca Vialli e Ventrone sono persone che ricordiamo sempre con grande piacere perché abbiamo avuto l'onore e il piacere di conoscerle hanno fatto sì che lui secondo me sia cambiato in meglio in questo senso c'è un po' smussato alcuni lati del suo carattere dici che forse anche io vorrei Antonio Conte alla Juve ma chi non vorrebbe Antonio Conte il problema il problema sai qual è che non decidiamo io e Michele ma decide Gionel Cane Gionel Cane Antonio Conte ma io ho detto Antonio Conte in Italia non ho detto ma non era Andrea Agnelli Marcello scusa pure Elkan che gli ha fatto pure Elkan perché so che lui ci terrebbe moltissimo attorno alla Juve i soldi che gli mette solo Agnelli era Agnelli il discorso adesso Agnelli non c'è Elkan che gli ha fatto da Elkan la stessa cosa che gli ha fatto da Agnelli però secondo me facendo il rapido calcolo delle squadre che sono a disposizione io non credo che possa accettare non Juve Milan una pochettata